Nuovi spaghetti alla carbonara. Perché nuovi spaghetti alla carbonara? Semplicemente per il modo in cui vengono disposti nel piatto, ovvero vengono messi in modo separato apparentemente che permettono poi al cliente o ai nostri amici che vengono a trovarci di mescolarli o di ottenere una densità perfetta. L'ingrediente molto importante ovviamente è il pepe, pepe dal nome al piatto come sapete perché è talmente ricco di pepe questo piatto, pepe nero, che sembra sporca di carbone. Allora mi raccomando avere del pepe in grani in un buon macinino da grattare solo all'ultimo momento. Gli ingredienti sono ovviamente la pasta che faremo in casa utilizzando 50% di farina di grano duro e 50% di farina di semola. Uova, uova intere di casata e poi del pecorino buono ben stagionato, della pancetta o del guanciale di maiale leggermente speziato e poi per aiutarci a condire il piatto un po' di brodo, di carne, olio, burro e sale e ovviamente più importante di tutti il pepe. Andiamo dunque a vedere come si fa questo piatto. Fondamentale per la preparazione di questo piatto è la cottura dell'uovo. È proprio l'uovo che con la sua densità perfetta poi darà grande valore a questo piatto. E per cuocerlo c'è un segreto, una cottura molto lenta fatta in acqua che dura 30 minuti. 30 minuti è una temperatura che va dai 65 ai 70 gradi. E per poterlo fare bisogna per forza munirsi di un termometro, possibilmente di quelli digitali, e una buona pentola capiente di acqua, in modo che essendo capiente ci sia dentro tanta acqua e che quindi la variazione di temperatura durante questi 30 minuti sia minima e quindi non ci costringa a stare là a controllare ogni 5-10 minuti. Diciamo che con una pentola molto grande si può correggere la temperatura, controllare la temperatura in un paio di volte. E intanto possiamo fare le altre cose. Quindi io ho preparato qui dell'acqua calda, 65 gradi, è la temperatura quella che non ci permette più di tenere le dita in acqua, tanto per intendersi. E in quest'acqua metto delle uova che poi userò per la carbonara, ma volendo posso utilizzarle per tantissime cose. Le uova sono in acqua, la temperatura è di 66 gradi, quindi stiamo dai 66 ai 70, e metto un timer di 30 minuti affinché si cuociano. Prepariamo la pasta quindi e utilizziamo, come abbiamo già detto, farina di semola e farina di grano duro. Allora, diciamo che abitualmente per una pasta da tagliare, come uno spaghetto o una tagliatelle, cerchiamo di aumentare la quantità di farina di semola per renderla più ruvida, mentre per un raviolo utilizziamo più farina di grano duro. Le proporzioni sono di una parte di farina di semola, una parte di grano duro e una parte di uovo intero. L'uovo intero viene pesato e non contato in unità di uova, perché ad esempio un albume potrebbe pesare 40 grammi, 30 grammi, un uovo potrebbe pesare 60 grammi o 50 grammi, è sempre bene pesare l'uovo, la quantità di uovo intero, che sia metà della quantità della farina. Metto tutti gli ingredienti in un robottino per non sporcare la cucina, ma potrei farlo anche a mano dentro un bel contenitore capiente e con un gancio lo mettiamo a impastare lentamente. Ecco, abbiamo fatto riposare la pasta per una trentina di minuti, un po', perché così diventa più morbida e possiamo procedere a tirarla e a tagliarla a spaghettini. Ecco, abbiamo tirato la pasta a uno spessore piuttosto grosso, perché quello che vogliamo ottenere poi è uno spaghetto a sezione quadrata. Questa pasta è proprio dello spessore circa di 2 mm. La lascio qualche minuto qui ad arieggiare in modo che si asciughi un po' e possa poi essere tagliata in maniera che non si attacchi tutta. La pasta può essere tagliata in due modi, o con questa macchinetta oppure a casa, se non ce l'avete anche a mano. L'importante è che la pasta sia bene asciutta, si può piegare così, va tenuta con un po' di farina e poi con un coltello ben affilato si possono tagliare degli spaghetti che sono a sezione quadrata e sono molto appetitosi. Prima di cucinare la pasta dobbiamo preparare gli altri ingredienti per la carbonara. Noi abbiamo preparato un po' di pancetta, che non è proprio tradizionale, si userebbe più abitualmente il guanciale, ma avendo i nostri suini qui in Alpago utilizziamo la pancetta che è leggermente speziata con un po' di chiodo di carofano, pepe e cannella. Viene tagliata dello spessore circa di un millimetro e messa in forno 4-5 minuti con il grill affinché diventi croccante. Altro ingrediente fondamentale è il pecorino. È importante che il pecorino sia molto stagionato, perché quando andiamo a grattugiarlo solo in questo modo diventa bello voluminoso e secco. Per grattugiarlo abbiamo preso questa buffa grattugia, ma si può grattugiare con qualsiasi grattugia, che lo fa proprio molto molto sottile a scaglie, oppure addirittura si può con un coltello tagliarlo in modo sottile ottenendo appunto delle lamine, delle scaglie sottili. Ecco, questo è pronto. Siamo pronti per cuocere la pasta, che è una pasta all'uovo, e che la cucineremo in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti. In realtà questa è una prima cottura, poi finiremo la cottura con del brodo di carne, se ne avete a disposizione naturalmente. Ecco, sono passati 30 minuti per le uova e sono ormai pronte, e quindi me le preparo qui per poi finire il piatto. Sento odore quasi di bruciato, vediamo se la pancetta è tardi, no, è ancora perfetta. La tolgo dal forno, ovviamente ha perso molto molto grasso, con la cottura la metto su un po' di carta, è bella croccante. Ecco, scoliamo la pasta. Rimetto qua. Aggiungo un po' di brodo. Un goccino d'olio d'oliva. Pezzettino piccolo di burro. E la faccio cuocere così nel brodo, per circa un minuto ancora. Ecco, a questo punto, pasta, uova, pecorino, pancetta, pepe, tutto pronto per essere impiattato. Disponiamo come se fosse un nido, mettiamo la pancetta croccante. Un uovo. Ecco, va rotto come se fosse un uovo crudo. In realtà l'uovo è cotto ed ha una sua densità. Abbondante pepe. Ed infine una nuvoletta di pecorino. Ora, tutti gli ingredienti sono nel piatto, sono separati, ma nel momento in cui romperemo l'uovo, tutto si mescolerà e darà un unico sapore, quello classico della carbonara. Sembra un po' laborioso da montare, da finire questo piatto, però vi garantisco che poi i vostri ospiti saranno felicissimi, perché la densità, grazie a questa cottura particolare dell'uovo, sarà sempre perfetta. Grazie. Grazie. Grazie.